Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto chiedo scusa per questa repentina variazione, però come ora vi spiegherò non dipende da noi. Allora, circa una quarantina di minuti fa mi ha scritto una mail il manager che sta dietro all'Italia di Epic Game dicendomi che stanno apportando delle modifiche alle granting policy di questi custom matchmaking che pertanto l'evento doveva essere annullato appunto a due giorni dall'evento. Quindi dopo un scambio di mail siamo riusciti a anticipare l'evento togliendo un giorno, quindi le date sono domani e giovedì. Quindi mercoledì e giovedì 20 e 21, sarà il 20 dalle 14 alle 24, daremo noi i codici in live. Invece giovedì 21, dalle 12 alle 21, diamo noi i codici in live. Poi dalle 21 alle 24 ci sarà l'influencer show match insieme allo show match dei team, tutti insieme, quindi alla fine si creeranno due server. Come vi abbiamo detto vi chiediamo scusa se non... Insomma c'è stata questa variazione, però non dipende da noi. Il manager mi ha avvisato appunto come vi ho detto poco fa, quindi noi ci dobbiamo adattare all'Epic Game perché alla fine, come anche giusto che sia, il gioco è loro e decidono loro. Speriamo che comunque la situazione si stabilizzi. Comunque, vabbè, vi preannuncio già che speriamo ci siano un po' di variazioni, ok, anche nella gestione. Però questo è una cosa futura. Per il momento è tutto e ci vediamo domani. Ciao, ciao!